benvenuti alla rassegna stampa di oggi di oggi martedì 31 gennaio questa è l'ultima rassegna stampa di questo mese molto freddo che se ne va e che ci lasciamo alle spalle ormai allora vediamo subito il santo del giorno il 31 coincide con un santo famosissimo e san giovanni bosco il sole sorto alle 7 25 tramonterà alle 17 e 18 minuti il cielo per oggi sarà parzialmente nuvoloso con deboli precipitazioni sparse più probabili nel settore montano in quello settentrionale quindi dalla parte della provincia di pesaro rubino le temperature sono in aumento per oggi domani primo febbraio cielo parzialmente nuvoloso con maggiore densamente nel settore centro settentrionale della regione avremo possibilità di precipitazioni deboli piovaschi lungo il crinale appenninico le temperature senza variazioni di rilievo questa mattina fa meno freddo rispetto a ieri oggi siamo intorno agli 8 gradi alle 7 30 del mattino quindi niente gelate per fortuna i venti sono domani previsti sud occidentali per giovedì 2 2 di febbraio avremo un cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne possibilità di qualche deboli piovasco nelle zone della montagna in aumento nei valori massimi invece le temperature avremo tempo sostanzialmente stabile almeno fino alla giornata di sabato questo per quanto riguarda la settimana che abbiamo appena iniziato allora vediamo subito i giornali i giornali questa mattina riportano la notizia di una rissa una rissa con botte da orbi che è avvenuta a pesaro nella giornata di domenica ecco un fotogramma ripreso dalle telecamere di sorveglianza il titolo botte da orbi duello rusticano tra rumeni e senegalesi in piazza matteotti feriti sfregiati e arrestati e adesso si parla di allarme guardate che cosa è accaduto ci sono volute un paio d'ore davvero per sistemare placare gli animi poi i titoli dalla pagina principale di pesaro fermate in stazione 30 abusivi tra venditori e parcheggiatori controlli su extra comunitari in arrivo con il treno a pesaro e i vigili adesso hanno anche un numero collegato alla chat di whatsapp poi di spalla luca nardi campione predestinato che lascerà la scuola un futuro importante per lui feroce in campo timido però fuori luca nardi un tennista di 14 anni e poi sotto si ruba di tutto pure i bidoni dei rifiuti decine infatti le segnalazioni a marche molti servizi e c'è anche chi fa dispetti si fa i dispetti tra i vicini di casa entriamo nelle pagine cominciamo da fano con la cronaca del funerale di jacopo monaldi il giovane di 24 anni deceduto in un incidente stradale i guantoni sulla sua barra gli striscioni fuori e il prete che dice mi insegnò il coraggio folla al duomo in cattedrale a fano per l'ultimo saluto al 24enne sotto invece la il miracolo di questo conducente che è uscito praticamente illeso dopo essere sbalzato fuori addirittura in mezzo al campo un cinquantenne fanese che ieri mattina si è scontrato con un tir uscendone davvero quasi indenne una carambola incredibile siamo nei pressi dell'aeroporto del campo d'aviazione ieri mattina intorno alle 9 tre quarti tre mezzi coinvolti la 500 tamponata finisce contro il tir davvero un miracolo a ponte sasso invece ecco i locali per i baby profughi c'è stato un sopralluogo del sindaco di fano massimo seri del consigliere rapa ci sono le potenzialità dicono per una valorizzazione turistica il viaggio all'interno della struttura scelta per ospitare 32 migranti minorenni e poi il sindaco di fano seri si è lasciato sfuggire una battuta qui ci si potrebbe fare anche una clinica privata bisogna vedere se l'arcidiocesi di urbino che è proprietaria a ponte sasso di fano di questa struttura molto grande è così decisa a vendere e sotto invece la solidarietà dei fanesi che salva una famiglia in fuga dalla siria e dunque dalla guerra grazie ad una colletta nella quale sono stati raccolti 24 mila euro sarà pagato l'affitto di un appartamento per due anni e in questa fotografia vedete la famiglia con don mauro della parrocchia di san cristoforo e stefano paradisi che è questo papà di casa di casa famiglia insomma e poi il resto i tre figli con marito e moglie siriani che sono scappati appunto dalla dalla guerra a urbino invece gli automobilisti sono distratti perché pensate il comune ha incassato 400 mila euro dalle multe ieri ancora una sfilza di sanzioni in alcune zone gli stalli sono ancora sepolti dalla nevicata così come disagi sono stati segnalati per i marciapiedi invasi dal ghiaccio alla piantata siamo sempre a urbino non sono stati ancora puliti in più i lampioni sono spenti. Lega Nord andiamo a Fossombrone chiede gli atti sul bocciodromo giorni fa in città è girata una lettera anonima che è stata recapitata tra gli altri anche al sindaco di Fossombrone Bonci e al capigruppo in consiglio comunale l'argomento di questa missiva erano i lavori di ristrutturazione del bocciodromo comunale ecco perché siccome era una lettera molto dettagliata Lega Nord chiede gli atti su questo bocciodromo vogliono vederci chiaro sull'appalto dice anche Iuri Pandolfi della minoranza chiederemo le dimissioni se dovessero esserci delle irregolarità sotto invece sempre dal Carlino ancora record dei sciatori sul Monte Catria sul Carpegna e sul Nerone giornate belle con il sole hanno attirato almeno 6 mila persone nei vari impianti ci sono state anche lunghe file di auto e dunque disagi anche rallentamenti per arrivare appunto sulle cime di queste montagne allora adesso apriamo invece il Corriere Adriatico in primo piano anche qui il far west in piazza Matteotti a Pesero tre le persone arrestate task force per bloccare la rissa sangue paura già tutti liberi sangue bottigliate una rissa così violenta e prolungata non si era mai vista è avvenuta domenica sera in piazzale Matteotti l'ingresso del salotto buono pesarese ci sono volute quasi due ore e una task force di carabinieri polizia municipale per placarla arrestate e condannate tre persone subito rimesse in libertà poi c'è la notizia che alcuni poliziotti sono stati aggrediti vedete qui al parco Miralfiore ma la fotonotizia è per la visita di mattarella il presidente della repubblica a camerino con però alcuni momenti di protesta voglio parlare stanco di ascoltare solo il sindaco di camerino che se ne va show di salta martini questo è quello che scrive il Corriere Adriatico poi celani e marcozzi siamo sempre sulla prima pagina del Corriere Adriatico celani e marcozzi nella blacklist di forza italia che adesso chiede a loro più di 28 mila euro nella blacklist infatti di forza italia ci sono eurodeputati parlamentari esponenti del partito a vari livelli i loro nomi sono segnati in rosso visto che non versano non avendo versato non versando le quote di iscrizione e i contributi mensili hanno contribuito al dissesto finanziario del partito con le casse sempre più vuote e tra questi appunto figurano anche il capogruppo in regione jessica marcozzi e in suo piero celani in due i consiglieri regionali devono a forza italia più di 28 mila euro anche se celani ha provveduto al pagamento dell'iscrizione al contrario della marcozzi e berlusconi cosa dice dice ha dato l'ultimatum centro il 28 febbraio non si provvederà a sanare il debito con il partito fuori tutti a casa e soprattutto fuori dalle liste elettorali a pesaro c'è la banda dell'oro rosso che è il rame che viene rubato davvero a tonnellate un po in giro in tutta italia ebbene parla l'imprenditore tonti che dice abbiamo subito un danno gravissimo e adesso siamo costretti a bloccare la produzione c'è stato questo furto consistente a l'ifi di tavuglia è un brutto colpo per l'azienda che ora si trova a dover persino rivedere il ciclo di produttivo e lasciare qualche dipendente momentaneamente a casa senza lavoro è successo domenica sera in un orario compreso tra le 22 e le 23 poi sopra sotto la testata del Corriere Adriatico c'è la pagina o meglio ci sono i richiami che riguardano lo sport la WL in particolare WL che va male ma gli errori non sono soltanto suoi entriamo nelle pagine interne e subito la pagina di Fano del Corriere Adriatico dalle società partecipate arriva l'ossigeno per un bilancio che sarà flessibile nel 2017 si confida nel decollo dell'ase tunica e il 2016 ha portato 800 mila euro da IMU e Tari e ancora dalla pagina dalle pagine del Corriere Adriatico i palloncini volano in cielo con Jacopo il Duomo come un ring folla e lacrime l'ultimo saluto al pugile morto a 24 anni che sognava di diventare pompiere ora ci serve il tuo coraggio la commozione di Don Cavoli avrei preferito che al mio posto ci fosse un altro prete poi sotto ancora l'auto tamponata che si schianta contro un camion inferno di Lamiere in via Mattei grossi disagi per il traffico e conducenti salvi per miracolo una carovana per sostenere chi è lontano dai riflettori aiuti post sisma portati ad Aschio da Moma 5 qui nessuna associazione e dunque ci ritorneremo per portare i nostri aiuti mentre Lara Ricciatti onorevole parlamentare di sinistra italiana acquista i biglietti di tribuna per portare i bambini terremotati al prossimo carnevale di Fano alla prima domenica del 12 di gennaio sono stati invitati i ragazzi di Arquata del Tronto alla seconda sfilata quella del 19 febbraio i ragazzi di Amandola e di Montefortino alla terza quella del 26 piccoli di San Severino Marche e ancora dalla valle del Cesano Marotta vuole restare unita in trincea contro la sentenza questa sera l'assemblea che detterà la linea dopo lo stop del consiglio di Stato l'intendimento è di non voler essere più governati da Fano e superare la divisione e poi c'è tra i nuovi comuni quelli terre roverische e colli al metauro c'è il problema che questi due nuovi comuni non hanno ancora un loro patrono le amministrazioni sono state invitate a scegliere dalla prefettura il discorso come quindi dicevamo vale sia per terre roveresche che per colli al metauro perché fino al 31 dicembre per esempio Barchi festeggiava Sant'Ubaldo il 16 maggio Orciano Santa Caterina il 16 di novembre Piagge Santa Lucia il 13 di dicembre San Giorgio di Pesaro invece San Giorgio il 23 di aprile e quindi adesso bisognerà che i nuovi sindaci sceglieranno insomma queste date per festeggiare questo nuovo questo patrono adesso vedremo in che modo si muoveranno poi da Senigallia invece ortaggi in tasca e cartelli c'è stata la protesta ieri in consiglio comunale a Senigallia contro il salasso della Tari la tassa in aula la rivolta tensione in consiglio Mangialardi il sindaco di Senigallia ottiene il via libera dei sindacati categorie contro il provvedimento approvato con 16 sì io non pago era lo slogan dei manifestanti l'ultima pagina invece è quella di Fabriano la cronaca un barista che si impicca in casa scoperta shock dalla madre della madre Luca Dolce 49 anni era ex candidato sindaco e consigliere comunale a Esanatoglia e è stato trovato appunto in casa dalla mamma questo 49enne barista Fabriano ed ex consigliere comunale ad Esanatoglia ed ex candidato sindaco probabilmente purtroppo in preda ad una crisi depressiva noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti